Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo vlog. Io sono Lauri e sì è proprio destino che io debba iniziare ogni santo vlog in bagno e oggi faremo un camera tour. Sì perché siamo in Val d'Aosta ed è una cosa magnifica e praticamente siamo una piccola località di nome San Vincent o San Vincent o San Vincent. Iniziamo dal bagno perché mi sento una presentatrice Il bagno si presenta con un magnifico porta asciugamani firmato Irsap, una meravigliosa doccia spaziosa e tutto, un meraviglioso specchio con una meravigliosa persona, questo piccolo specchio Che belli, i miei capelli sono più unti così, che praticamente quando ci guardi sembra guardare negli occhiali di mia nonna. Poi un meraviglioso asciugacapelli, ho comunemente chiamato Fon, che ha le somiglianze di una proposcide di un elefante. Ma procediamo con la camera, il pezzo forte. Allora la camera è situata così, un lettino in cui dormo io, una bellissima finestra di cui addirittura non si riesce a intravedere il panorama. Quindi fantastico. Questo è il karma proprio. Dopodiché una lampada, si accende così, che ha lo stile un po' giapponese. Armadi. Dopodiché qua tutte le cose che comunemente si usano quotidianamente. TV, firmata LG, Life is good e un meraviglioso letto matrimoniale in cui io non potrò mai dormire. È un'altra finestra in cui ovviamente non si può intravedere il panorama. Ah ma volete sapere il meglio di tutta questa camera? Che quella lampada lì, questa, non funziona neanche. Cioè è rotta, la lampadina è rotta. Perciò dovremo andare in reception e cambiarla. Il karma. Ad ogni modo la camera è solo un dettaglio. Perciò l'importante è che la vacanza sia bella. Il posto, il luogo e già mi sembra un panorama fantastico. Quindi godetevi questo vlog. E visto che me lo dimentico sempre, visto che ho l'Alzheimer, raggiungiamo i 20 like. Mi piace. Mi piaccio like. Sinonimo. E... ciao. L'altro ieri abbiamo visitato Augusto e purtroppo non ho potuto vloggare tanto. A parte una clip dove abbiamo preso il trenino, dove mi sono sentita un po' come Papa Francesco sulla Papa Mobile. Non notate questi piccoli cambiamenti di location. Perché non trovo mai il tempo di vloggare. ID mode on. E ieri, in teoria l'altro ieri, siamo andati al park animalur Dintrud. E niente, io vi lascio con queste brevi, poiché poi il telefono mi si è scaricato. Clip fatte al parco. Porca vacca. Facciamo insieme. Ha la mia stessa identica voglia di vivere. Ciao ragazzi, siamo in montagna sul monte Avic. Mi sto cagando sotto. Qui. E... cosa non si fa per YouTube. E... godetevi il panorama. Finalmente dopo ore e ore di dispersione, di... di... tentativi di raggiungere l'umanità e camminate infinite, senza veramente una fine, abbiamo... trovato... un agriturismo. Oggi venerdì 17. Che bel numero. Sesto e ultimo giorno della vacanza. E siamo al lago. Lago... Lago de Colle de Joux. Ma che... Che che... Oddio. Lasciatemi... lasciatemi quei coni mie, ma tipo fiabili, che... La Disney è bellissima. Io voglio rimanere qui. Abbiamo trovato un altro lago. Color... Fuffo. Abone. Abone. Aidi, aidi, il tuo...